Buonasera a tutti voi che presenti al Forum Mondani e al pubblico di teatro. Buonasera a tutti voi che presenti al Forum Mondani e al pubblico di teatro. Buonasera a tutti voi che presenti al Forum Mondani e al pubblico di teatro. Eppure doveroso sia per una giusta commemorazione di chi subì quelle atrocità, sia per non dimenticare, per non dimenticare quegli eventi, per non dimenticare quel clima di tacito consenso, di servitù volontaria che rende impossibili quegli eventi. Ci consente quindi di meglio interpretare il presente e agire umanamente, in modo più consapevole. qualche ringraziamento al Comune di Modena, che sempre si sostiene in questa iniziativa, al Comitato per la Storia e le Memorie del Novecento e ovviamente a Piper Banca, che ci ospita in questo meraviglioso foro. e chiederei a Gianluigi Cotta, responsabile territoriale di Piper, di raggiungermi per fare due nomi di casa. Buongiorno a Piper Banca, responsabile territoriale di Piper. Piper Banca, che è Giovani, e una Quinta, che è Cultura. L'evento che sponsorizziamo questa sera nel nostro Piper Banca Forum Unvani porta presso tutti questi concetti, concetti che poi si trasformano in valori che sono in DNA della nostra azienda. Il concerto di hologramma è alla decena edizione ed è sempre stato ed è tuttora un'importante occasione di inclusione per ricordare la giornata da memoria, come diceva appunto prima, la stanza. In questa situazione qua, queste attività sono molto importanti per Piper. La collaborazione con l'Istituto Meme dura da 2015. Sono tantissime le occasioni in cui si è collaborato, moltissime iniziative, moltissimi eventi. Ne cito qualcuno, ma ne dimentico tantissimi, il Tortellante, l'Antoniano, gli Empori Solidari, il concerto dell'Unione dell'Emilia-Romagna. Sono tutti momenti molto importanti a cui la Banca ha partecipato con orgoglio, però sinceramente non aggiungerei altre parole e vi auguro una buona partecipazione e una buona serata. Un altro ringraziamento particolare ad Anna Maria Quartelli, assessore all'urbanistica e alla sostenibilità, al quale chiedo se vuole farci un saluto. Ci vediamo spesso, ci vediamo spesso oggi, questa serata, ovviamente una serata particolare. Intanto vi porto i saluti del sindaco Muzzarelli e anche dell'assessore Bosi, che fa parte del comitato e quindi ha sostenuto e appoggia ovviamente tutte le attività culturali che si svolgono a Modena, anche lui assente per un'altra iniziativa. Due parole, proprio due. Io voglio concentrarmi su due piccoli concetti, il mio contributo a questa serata. Giovani e memoria. Intanto i giovani non hanno memoria, la memoria siamo noi adulti, quindi il nostro modo di essere diventa la loro memoria. Se noi non siamo, come adulti, capaci di trasmettere, creiamo un bonus pazzesco rispetto anche allo sviluppo proprio identitario e civico dei giovani. I giovani hanno una passione inespressa, che fanno fatica a veicolare nel modo più corretto. Lo vediamo nella disperazione di molti giovani, la crescita di molte difficoltà a diventare adulti dei giovani di oggi. Noi abbiamo una grande responsabilità rispetto a questi giovani, a cui dobbiamo tracciare, indicare una strada, perché poi prendano la loro strada. Ma i giovani hanno dimostrato in tutti i momenti più importanti di esserci. E questa è una carica che abbiamo visto nel recente passato, ma anche più recentemente in molte manifestazioni per la pace o per il senso civico che trasmettano. Così come moltissimi giovani hanno perso la vita, si sono resi partecipi della resistenza. Ci hanno consegnato il concetto di essere partigiani, cioè non essere indifferenti e prendere parte. Ecco questo, i giovani ancora oggi, in un qualche modo, in modo spesso inespresso, a volte con difficoltà, a volte in modo contraddittorio, ci chiedono proprio questo, di essere parte di questa società, di poter prendere parte in modo consapevole, aprendo la strada a un nuovo modo di essere più inclusivi, più capaci di costruire una società migliore. È un monito per noi adulti, che abbiamo forse fatto tanto, ma negli ultimi 70 anni, forse anche un po' accecati da questo lusso, da questo benessere, nelle nostre realtà abbastanza diffuso, ci hanno forse deconcentrato dal senso di responsabilità rispetto al futuro. Invece i giovani chiedono un futuro migliore, un futuro dove davvero possano vivere non solo in pace, ma crearsi un percorso di crescita individuale, collettivo, migliore, più aperto anche al mondo. Io credo che i giovani che ho qui alle mie spalle esprimano con questa loro grande spontaneità e che noi raccogliamo in modo anche molto emotivo questa grande passione di vivere, di vivere il quotidiano, il momento, con grande passione. Ecco, questo è l'ospicio che io faccio, che la memoria diventi passione di un civismo e di un senso di responsabilità quotidiano rispetto a chi ci ha consegnato questo periodo di pace incredibile, di 70 anni di pace, ma anche per consegnare altri decenni di pace ai giovani di oggi. Grazie. Come è stato detto, è un'edizione dedicata in particolar modo ai giovani. Ed era giovane, ma 60 anni fa, quel menestrello che poi fu insinuito col premio Nobel, che si chiedeva e ci chiedeva e ci chiede quante volte un uomo può fingere di non vedere, quante volte dovrà tuonare ancora il cannone prima che sia messo al bando e per sempre. Ed è proprio da qui che cominciamo stasera. Chiedo a Roberto Frisono di raggiungermi per dirigere l'orchestra olografica. Grazie. Applausi. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Mi vedo. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. . , 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 ,... , ,... ,... , 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Subito ferma il dramma, si toglie il cappotto e cerca di spegnere le fiamme avvolgendolo intorno al corpo del ragazzo. Grazie a tutti. Metti in sangue la lettera. Si riferisce alla lettera contenuta nella borsa che ha lasciato poco più in là. Il nome di quel giovane è Jan Paglia, studente di filosofia appena ventenne. Nella lettera dice, poiché il nostro popolo è sull'uno della disperazione, abbiamo deciso di esprimere la nostra protesta e di scuotermi la coscienza. Ho avuto l'unione di esprimere la prima torcia, ho avuto l'unione di esprimere la prima torcia. chiedevano la prima torcia. di affermare una maggiore libertà politica, di stampa, di associazione e di movimento, sostenuto dalla grande maggioranza del paese. la dirigenza sovietica, la prima tenta con mezzi diplomatici di fermare le riforme, poi passa all'azione militare e nella notte fra il 20 e il 21 agosto, 500.000 soldati con 6.000 veicoli corazzati invadono il paese. Tutto il programma riformatore viene spazzato lì dal nuovo governo imposto da Mosca, perfino alcuni moscoviti hanno il coraggio di manifestare sulla piazza rossa mostrando solidarietà alla ciecoslovacchia. vengono arrestati e internati. Dopo è la volta di Al-Zai, si dà fuoco il 25 febbraio e anche lui lancio dal terra. ai cittadini della Repubblica Cercosolaca, voi decidi come torcia umana numero 2 di risvegliare la vostra coscienza, perché vi facciate coraggio e non permettiate a quattro dittatori di calpestarvi. che la mia torcia illumini il cammino verso la libertà e la felicità. Dopo il secondo suicidio ne seguono altri sei, ma la ciecoslovacchia rimarrà occupata fino alla caduta del blocco solidario. Iampalach non muore all'istante. La sua agonia dura tre giorni. Ai funerali partecipano 600.000 persone. Le sue ultime parole sul letto di morte suonano come un monito. Dedicatevi da vita alla lotta. Mi sono presi i nostri cuori tutto per coperti e scura. e ci sono molto più attorno. Mi sono presi i nostri cuori tutto in amico. Mi sono presi il senzугato subito. Le sue聲寮ette. Le sue sono presi i nostri cuori tutto per coperti e scusaQui tutto per coperti e scusaQui. Grazie a tutti. 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 . 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